Buongiorno, oggi vi presentiamo un immobile in centro. L'immobile è posto tra il museo delle ceramiche e le poste centrali. Ecco la palazzina, siamo lassù, all'ultimo piano, senza nessuno sopra la testa. L'ingresso è riservato a sole 8 unità. E si arriva al piano con l'ascensore. Ah, dimenticavo, c'è anche un bel garage. L'auto però non è inclusa nel prezzo. La casa è grande, proprio come una volta. E siamo liberi su tre lati. Ma senza dubbio c'è qualche lavoro da fare. Quindi è possibile usufruire degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni. Non vi resta che venire a vederla.